Migranti soccorsi su imbarcazioni di fortuna, una scena divenuta ormai tristemente consueta nel Mediterraneo ma che sempre più spesso si verifica anche nella Manica. L'ultima volta è accaduto il 24 ottobre quando la guardia costiera francese ha intercettato due barchini con a bordo 30 persone. Tra loro c'erano gli ebrahimi, una coppia di kurdo iraniani con tre bambini al seguito che per la seconda volta stava tentando la traversata per raggiungere dei parenti al di là della Manica. Secondo le autorità francesi i tentativi totali sono 237 dall'inizio dell'anno, nel 2018 erano stati 71 mentre appena 12 ne erano stati registrati nel 2017. Nell'ottobre scorso due cadaveri sono affiorati per la prima volta su una spiaggia francese. Più si allontanano dalla costa più il viaggio diventa pericoloso e il rischio aumenta il passaggio di navi da carico che creano onde e turbulenze capaci di far capovolgere almeno metà delle volte queste piccole imbarcazioni. Le imbarcazioni vengono approntate dai trafficanti molto vicino alla costa e per questo la polizia si sta impegnando a fermarli. Il Regno Unito ha stanziato finora 7 milioni di euro in droni e altra tecnologia per ricerca, pattugliamento e prevenzione in modo da facilitare e rendere più efficiente il lavoro della polizia francese.